Vosca Accademia Culinarna, oggi il Macaroniosh gottue cipusci, pomidoro, socivica e ceciorca. Otvieriamo i nostri cipusci e alle sacimiamo voda. Patelina, cebula, oliva z olive, ostra paprika, ceciora, c'è 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 c'è, dovolgiamo, c'è troppo rosmarino e troppo sull'a voda. I gottiamo, e po' qualche minuto dodiamo i nostri sos pomidoroni, e tam gottiamo po' volo. Blendiamo la socivica in una sua voda, aggiungiamo un po' di mone, per il momento, in cui possiamo formare un po' di massa. Troppo lavoriamo da la testa e formiamo le nostre gnocchi. Gnocchi sono stati. Gotiamo gnocchi in una voda solona e lo mettiamo nel nostro sos. C'è troppo un po' di mese e abbiamo piccine gnocchi, socivica, ragù, ceciora. Troppo ser. Proste e uotwe. Buonissimo! Ciao!